Si intitola Trekking Culturale e Sportivo ed è un'iniziativa che si colloca tra la storia dell'arte e l'attività sportiva. È organizzata dall'Associazione Futuro Aretino e si svolgerà venerdì 31 marzo ad Arezzo dalle 10 alle 13. Siamo un'associazione che opera con i giovani, principalmente tra un'età compresa tra i 17 e i 30 anni. E questa attività consiste nell'associare la cultura, quindi alla scoperta della nostra città, la città di Arezzo, con lo sport. Infatti avremo le strutture fitness che è Marco e poi avremo la presenza anche del professore di storia dell'arte Pierangelo Mazzeschi che ci spiegherà un po' la storia della città e soprattutto si fermerà in quei luoghi che la fanno da simbolo come per esempio Piazza Grande. Coprire la storia della nostra città partendo dai più giovani, questo l'obiettivo? Sì, questo è l'obiettivo principale di questa attività e soprattutto è quello di far integrare i giovani alla scoperta della città con lo sport che è la cosa più importante, mantenersi in movimento e soprattutto questo serve per dare un po' di vitalità alla nostra città per farla riscoprire anche da chi non la vive quotidianamente come noi e soprattutto anche di far rivivere la bellezza e la cultura che la contraddistinguono. Ci sarà anche un lato sportivo, quale sarà il percorso? Allora praticamente partiremo da Piazza San Jacopo, toccheremo alcune piazze più importanti tra cui come ha detto Lorenzo, Piazza Guido Monaco, Piazza Sant'Agostino e Piazza Grande. Ci fermeremo lì e faremo degli esercizi magari più specifici e dopo torneremo in Piazza San Jacopo per il saluto finale. Chi vuole partecipare cosa deve fare? Allora chi vuole partecipare ci deve contattare e per ora abbiamo già due classi più dei ragazzi del Tevenin. Le classi sono liceo sportivo e una classe del Fossombroni quindi ancora alcuni posti ci sono fino al completo non ci dovrebbe essere ancora alcun problema.